Bassano dichiara guerra agli adia il celibato e annubilato. Troppo spesso scene all'insegna del malcostume animano il centro storico specialmente il sabato sera. Veri e propri cortei tra squallore e volgarità e così il comune ha deciso di dare un giro di vite per arginare il desolante fenomeno. Ed ecco che è scattata anche la prima sanzione. Sabato sera, dopo un periodo di un mese circa, durante il quale la polizia locale i sabati sera affettuava delle azioni di contrasto agli schiamazzi notturni e a feste di addio al celibato sopra le righe sono scattate le prime sanzioni. Violazione dell'articolo 6 del regolamento comunale che vieta di compiere atti e ottenere comportamenti contrari alla pubblica decenza. Una sanzione da 50 euro combinata ad un bassanese di 28 anni a capo di una comitiva d'addio al celibato a dir poco un po' troppo eccessiva. È trattato di un gruppo di persone che stava festeggiando un addio al celibato verso mezzanotte in Viare delle Fosse, un po' sopra le righe, non arrivando agli atti osceni in luogo pubblico ma andandoci molto vicino. Insomma Bassano dice basta, c'è posto per chi vuole divertirsi, certo, ma occhio a non superare il confine. Noi abbiamo detto che Bassano è una città del sorriso, una città dove ci si può venire a divertire ma nel rispetto del decoro, della decenza e delle altre persone.